Non si placa a Catania la protesta dei lavoratori della Tecnis, che in gran numero, insieme a rappresentanti sindacali, hanno manifestato il loro dissenso davanti alla sede etnea dell'azienda, coinvolto in un vero e proprio terremoto giudiziario che ne ha colpito i vertici. Le istituzioni fino a questo momento sono state assente, sono state latitanti, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, questo sì, però nei fatti concretamente non c'è stato uno sviluppo. Chiunque manifesta interesse per questa azienda deve rispondere anche alle esigenze del territorio. Noi chiediamo che i lavoratori possano essere messi nelle condizioni di completare le opere e che possano percepire le loro retribuzioni regolarmente. Per quanto riguarda la produzione, quindi gli operai saranno più di 100 tra San Marco e Metropolitana. Per quanto riguarda poi c'è anche tutto il capitolo degli impiegati che anche loro sono rimasti indietro per quanto riguarda le retribuzioni. Il problema vero è che l'istituzione ad oggi ancora non ci ha dato una risposta e non ci stanno facendo capire come hanno intenzione di risolvere questo problema.